Musica Terre Ioniche il 14 novembre, la grande mobilitazione degli alluvionati del Metapontino, l'annuncio questa mattina a Matera. Buongiorno e bentrovati, continua dunque la mobilitazione nel Metapontino ad un mese dalla terribile alluvione. Questa mattina il Comitato Terre Ioniche ha annunciato le prossime azioni, una grande manifestazione in programma per la prossima settimana. I particolari da Luigi Di Lauro. Una grande manifestazione il 14 novembre prossimo al confine tra Puglia e Basilicata per sostenere la protesta del Comitato Difendiamo le Terre Ioniche a un mese dall'alluvione che il 7 ottobre scorso ha letteralmente messo in ginocchio i territori al confine tra le due regioni, portandosi via anche quattro giovani vite umane. Le richieste del Comitato Terre Ioniche sono state illustrate questa mattina a Matera nel corso di un incontro con i giornalisti. Delimitazione effettiva delle aree colpite un mese fa dall'alluvione, nomina di un commissario straordinario unico per la Puglia e la Basilicata, estanziamento di risorse vere e certe per la messa in sicurezza dei territori e per indenizzare famiglie e attività produttive. Le tre priorità indicate dalla portavoce del Movimento Gianni Fabris per supportare nei contenuti e accelerare i tempi per l'emanazione dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il riconoscimento dello stato di calamità. Terre Ioniche inoltre chiede che vengano evitati gli errori del passato come accaduto con l'alluvione del 2011 che ha lasciato le cose come stavano e non ha soddisfatto quanti furono effettivamente danneggiati dalla calamità. Il Movimento, che non esclude la protesta del non voto per le elezioni regionali in Basilicata, qualora non dovessero arrivare risposte concrete sulle istanze sollevate, ha raccolto già 200 certificati elettorali. Una decisione definitiva in tal senso verrà da un'assemblea di operatori e famiglie dei territori Tarantino e Materano dalla giornata di immobilitazione che come detto si terrà il 14 novembre e alla luce del risultato degli incontri con parlamentari, amministratori regionali e candidati alle elezioni di Basilicata in programma nei prossimi giorni. E noi siamo tornati a vedere qual è adesso la situazione nel Metapontino. Al sino ad un mese, lo ricordiamo, dall'alluvione, dagli imprenditori, fino all'area archeologica di Metaponto. Teresa Fabricatore. Domani, esattamente un mese fa, l'alluvione nel Metapontino metteva in ginocchio cittadini ed imprenditori. I ricordi vivi nella memoria, ci sono le foto a testimoniare il disastro e poi i danni alla merce, scantilati da sistemare. Questo imprenditore agricolo ha ripulito il canale di scolo a sue spese, colteva fragole. Una nuova alluvione spazzerebbe via investimenti ingenti. Tanti comitati e cittadini che parlano per tenere viva l'attenzione. La cosa che mi rincresce dire e me lo permetta è che non abbiamo visibilità alcuna. È successo l'alluvione il 7 di ottobre, se ne è parlato un pochino, quindi c'è pochissima visibilità. E poi quello che noi chiediamo è l'attenzione all'evento che è successo, all'evento che si potrebbe ripetere e chiediamo che ci sia un ristoro per le famiglie danneggiate, per le imprese danneggiate, sia agricole che commerciali e anche professionali. Noi abbiamo una viabilità ancora precarissima, quindi anche per raggiungere, che ne so, Marconia, Bernalda, abbiamo delle strade ancora interrotte, per cui credo che sia stato fatto ben poco. Dobbiamo ammettere che la gente che non è stata danneggiata partecipa poco, ecco, ce ne sono pochi che partecipano e io invece li vorrei sollecitare ad interessarsi a quello che non è un problema di alcuni, ma è il problema di tutti. Silenziosi invece, come la memoria storica, le colonne, gli scavi dell'area archeologica di Metaponto. Sono stati effettuati gli interventi d'urgenza, rimossa l'acqua, rimane il fango e si aspettano nuovi fondi del Ministero per proseguire. Il sovraintendente ai beni culturali, Antonio De Siena, spera che a Pasqua l'area possa essere restituita ai turisti.